Ma guardi, Luigi sta molto male, ancora ho trovato un antidoto adeguato, Luigi come ti senti? Ah, ma io sento ancora molto male, ho trovato un antidoto, mi dispiace, ho trovato un antidoto, non ce l'avevo, nemmeno uno. Di cosa state parlando voi? Ti ho visto, tu sai, ho visto qualche fungo super cura, no, tutti, sono molto costosi e nessuno lino c'era, si possono trovare nella botta mia del terrore. Perché lassù? Perché lì c'è l'unico labbra dove i toad li vanno a prendere, oh no, mi ha detto quella scalata, vabbè, per il mio fratello, per me di fare tutto. Io vado, ce l'ho oggi, posso venire con te? Ok, però sta attento. All'avventura, 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 si è andato bene, bene. Voi dove pensate di andare? Questo qui è l'ingresso per andare, questo qui è l'ingresso per andare alla montagna del terrore, è tutto il sentiero per andare alla montagna del terrore. Voi ci volete andare? Sì, ma perché? È molto rischioso, potete morire. No, è perché devo cercare il fungo super cura, è perché vi serve? Sei molto curioso, è per il mio fratello Luigi. Ah, però è rimasto l'ultimo, dovete arrivare fino in cima alla montagna. Ok, ti faccio per passare, certo. Però prima devi batterti con me. Ah, combattimento, ok. Ok, cominciamo. Ok, ti faccio per passare. Ok, ti faccio per passare. ok Siete morti, in un attimo è destesa al tappeto, ma non lo potete passare, è molto accidentato Ah, è fatto buio già, c'è campi occhi della notte, sì, come sì, certo. Alla prossima, per il prossimo episodio.